Pur partendo dalla situazione che sappiamo, 2 miliardi e 200 milioni di disavanzo, abbiamo scelto di non tagliare la spesa, di non aumentare le tasse e anzi di passare a più di mille assunzioni. Come fare? Abbiamo concentrato le risorse che abbiamo disponibili nelle priorità che la città chiede, destinando molto alla manutenzione dei territori, alle municipalità e ai servizi centrali che si occupano di verde, di strade, di decoro urbano, di scuole soprattutto e quindi un intervento che si aggira attorno ai 16 milioni, che è il doppio dell'anno scorso su questa priorità. Inoltre, avendo un incremento del turismo e potendo sperare che dalla tassa di soggiorno ci sia un'entrata importante, abbiamo destinato oltre quasi 4 milioni al turismo e molti milioni alla cultura, che è un aspetto fondamentale dello sviluppo della città. Abbiamo ovviamente finanziato le nostre partecipate perché svolgano il lavoro necessario. In sostanza c'è una svolta e la svolta sta anche nell'ottica triennale. Tutte queste cifre vanno moltiplicate per tre in due anni e mezzo, quindi ci sono a disposizione risorse importanti per rilanciare la città. In che modo il bilancio appena approvato consentirà di intervenire sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini? Pensando che le municipalità lo scorso anno hanno speso 2 milioni e mezzo e adesso gliene diamo 8 disponibili e siamo già a metà dell'anno, moltiplicati per altri 23-24, quindi tre volte possiamo dire che questo si riferisce esattamente alla qualità dei servizi, ma voglio anche ribadire che quest'anno non c'è nessun incremento di tasse, nessun taglio della spesa, nessun incremento di tasse. I cittadini quindi oggi devono guardare a questo tentativo forte che sta facendo il Comune di migliorare la qualità della vita, ma sapendo che per adesso non gli è stato chiesto di condividere con le loro tasse, ma di partecipare invece a tenere più pulita la città, ma anche probabilmente a pagare di più le tasse evase perché abbiamo tanta evasione e se riuscissimo a recuperarla avremo più risorse per spendere.